Devi essere molto disperato per essere venuto a chiedermi aiuto. Vorrei potermi fidare di te. Se lo facessi, saresti lo stolto che ti ho sempre ritenuto. Prima dell'universo c'era l'oscurità ed è sopravvissuta. Che succederà? Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Combatti un nemico conosciuto a pochi. Conosciuto solo a uno. Se solo pensi di tradirlo... Ti ucciderò. Questo era per New York. Mi piace, lei. Thor, la tua famiglia, il tuo mondo saranno cancellati. La struttura stessa della realtà verrà distrutta. Riuscirò a salvare tutti noi. Thor, the Dark World. È tutto tuo. Nessun altro? In Blu-ray e DVD. In Blu-ray e DVD.